Parazzolo sul segno, i matti, l'8-5-2010 Ok, allora, metri, allora, coefficiente? 515, velocità? 930, parato a? 200 Altezza del cannocchiale? 5,4 E qui ci sono i pazzi Davide, Giampiero, Luca e il cecchino Giulio E qui si, la sua? E qui è il caso? E qui si, la sua? È una rugga, è un po' di soli E qui? E qui? E qui? Sì, sì, due dita sinistra, va bene. Gange colpito a 600 metri. Oh, non dici che va? Ti ho andato la mano tutta per terra. Bravo. 700 metri, bravissimo. Prova del gong a 800 metri. 80-400. Colpito il gong anche a 800 metri. Provo un colpo a 1000 metri. Silenzio un attimo, ragazzi. Bravo, complimenti. Questo è il gong. I buchi arancioni sono quelli colpiti con le chimera.